prendo, prendo fa che... guarda che vola, 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 vola via in questo lasso di tempo vedrete le luci che si appasseranno molto lentamente molto lentamente, ti mando tanto affetto tanto amore tanta tranquillità e ti auguro il meglio ti auguro una buonotte davvero mio pasticcino cosa è stata via? ciao ragazzi grazie di essere qui come oggi benvenuti 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 in un video appartenente a un nuovo format sul canale youtuber sceglie il mio smr diciamo così questa idea non l'ho assolutamente ideata io ma l'ha ideata la persona con cui tra l'altro farò questo video e questa persona è Ale Hilton vi metto il suo canale qui sotto assolutamente lei è una beauty influencer per l'altro e ci sentiamo ormai secondo me da due anni e l'ho incontrata solo una volta purtroppo però spero finita questa situazione di poterla incontrare ancora e magari di fare un video insieme come funziona questo format? semplicemente uno youtuber o anche un influencer adesso vediamo un personaggio dovrà decidere il tipo di video che ando a fare un po' secondo il format tizio caio decide il mio make up il concept è questo ditemi sotto ai commenti che chi vorreste che decidesse il mio smr la prossima volta però la ringrazio veramente Ale per questa splendida idea e per essere stata la prima a farlo ora vi faccio sentire la prima parte del 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 suo audio così scoprirete piano piano cosa mi ha detto di fare ok cominciamo buonasera chissà tutti o buongiorno chissà tutti amici a casa e un saluto speciale alla mia amica Chiara che oggi mi farà decidere il suo video ASMR e io non vedo l'ora perché sono una fan sfegatata dei video ASMR trovo che mi aiutino molto a riconciliare il sonno quindi diciamo che sono un po' un'esperta e Chiara sicuramente è uno dei miei canali preferiti per potermi rilassare la sera e conciliare il sonno quindi voglio ringraziare Chiara davanti a tutto il suo pubblico per aiutarmi a conciliare il sonno praticamente tutte le notti te ne sono davvero grata quindi sono a maggior ragione ancora più felice di poter decidere un po' come andrà questo video oggi allora sicuramente faremo le mie cose preferite nell'SMR adesso adoro gli ASMR ma non so bene i nomi tecnici quindi cercherò di spiegarmi sicuramente l'inizio di questo video deve essere assolutamente un prelievo dei pensieri magari anche con le mani un po' tipo con le perline una cosa del genere quindi ovviamente mi sono già messa le perline già scusate questo audio so già cosa andrò a fare e tanto mando un bacio a Natale grazie di video grazie per aver partecipato ora ora vorrei togliere un po' di pensieri che ultimamente sicuramente abbiamo tutti quanti e però penso che per quanto dobbiamo sempre stare attenti sicuramente comunque pensarci in continuazione non va bene ci fa male proprio allo spirito ci fa male tantissimo alla nostra mente alla nostra alla nostra psiche quindi adesso insieme rimuoveremo tutti 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 pensieri negativi tutte le preoccupazioni tutti quei pensieri che riavviano di sera soprattutto quando ci rilassiamo abbiamo fatto tutto nella giornata e al posto di dormire insomma diciamo che abbassiamo le difese e al posto di dormire cominciano a rilagare tutti questi pensieri e avviano un po' la serata quindi se non mi apposto prendiamo il primo ecco qua zack 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 e prendo 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 e ancora prendo 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 fa che guarda che vola vola via e ancora prendo 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 e zack 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 fammi prendere anche questo intanto spuota veramente la mente aiutami anche te a toglierti i pensieri mentre io li rimuovo tu rilassati sempre di più molto bene, molto bene, mi sta aiutando tanto, si ringrazia ok, preleviamo l'ultimo eccoci qua eccolo qua e via e via è andato anche questo è andato, è andato, è andato via 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 continuiamo ora con l'audio per sentire cosa ci propone la nostra amica dopo di che un bel hand movement, io adoro gli hand movement con qualche tongue clicking, tutta una situazione molto soft, molto tranquilla io vado pazza per questa situazione mi piace anche tanto il andrà tutto bene soprattutto in questa situazione secondo me potrebbe essere l'ideale come parte del video e magari, magari per rendere tutto un po' più spicy e un po' più sfizioso perché no non andrà tutto bene in spagnolo perché come sapete Amicia Cava Chiara è molto brava con lo spagnolo quindi secondo me un po' di spagnolo per rendere tutto un po' più caliente ci potrebbe stare ok ok quindi facciamo un bello hand movement don't click andrà tutto bene racconta relate relate tutto sarà bene tutto sarà bene tutto sarà bene tutto sarà bene tutto sarà super, super, super bene tutto, 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 tutto sarà bene no, 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 no te preoccupi no te preoccupi no te preoccupi tutto, tutto tutto sarà bene relajate relajate cerra los ojos si quieres cerra los ojos si quieres tutto 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 sarà bene no te preoccupi perché tutto 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 estarà bene tutto 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 trurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur no te preocupes, relajate e cierra cierra los ojitos los ojitos cierra cierra los ojitos e relajate e non te preoccupi perché tutto sarà tutto 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 realmente non te preoccupi e in questo momento in questo istante non te preoccupi di nada solo cierra los ojitos solo relajate solo due ramette solo due ramette davvero andrà tutto bene? non ti preoccupare rilassati andrà tutto bene ok ok non so che ogni tanto semplicemente non hai qualcuno che te lo dica ok? bene continuiamo quindi ad ascoltare l'audio e volevo anche ringraziare Ale perché effettivamente il video del genere ci stava tanto e ditemi se vorreste un video dedicato in questa situazione andrà tutto bene all'emozione dei pensieri all'affrontare questo momento che ci proverà dopo di che io farei anche qualcosa con i pennelli una situazione di brush in camera una situazione di face massage anche con le mani una skin care una situazione molto rilassante per chiudere tutto con la buonanotte ma una buonanotte che non duri solo un minuto una buonanotte che sia una bella parte del video anche perché il abbassare le luci e il buonanotte è una delle mie parti preferite del video quindi a me piacerebbe sempre che venga un po' allungata come parte del video e ti dirò di più fallo con innanzitutto in italiano e poi sarebbe carino farlo anche in qualche altra lingua magari spagnolo inglese italiano e un'altra lingua a tuo piacimento secondo me questo potrebbe essere un video molto interessante io ti mando un big kiss e assolutamente non vedo l'ora di vedere questo video un bacio a tutti gli amici a casa spero vi rilasserete come me e nulla buon video tra l'altro io trovo che la sua voce sia estremamente ma proprio estremamente rilassante penso avesse anche un avesse fatto un video smr però se ne ho fatto di domani aveva fatto uno il primo che mi piaceva tantissimo era cancellato adesso lo scrivo di almeno passarmelo mi l'ho fatto che mi piaceva tantissimo tantissimo era un po' di super semplice ma fantastico poi tra l'altro a tutte le unghie fa questa cosa così ma con le unghie è molto bello allora prendiamo un attimino il pennello facciamo un po' di face brushing mentre questo punto auguro la buonanotte e poi con me ho anche un olietto che vi voglio mettere in più subito un po' d'accordo? prima il brushing un po' di 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 ok eccoci qua in questo lasso di tempo vedrete le luci che si appasseranno moolto lentamente moolto lentamente in cinque minuti quindi non me ne accorgerete neanche però intanto io lo dico io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma proprio 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 si aggiunta allora tiせ ti 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 a passare le luci 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 buonanotte 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 a passare le luci a passare le luci a passare le luci a passare le luci per farmi i tuorli prima di andare a dormire per svegliarci la mattina la pelle radiosa uno, due, tre, non lo soggiorno ok e vado a farti un massaggio mentre continuo ad augurarti una buona notte e vediamo il medico good night, yes, no good night good night good night good night good night sweet dreams Good night, sweet dreams Good night, sweet dreams Buenas, buenas, buenas No, just Buenas, buenas, buenas No, just Buenas noches Buenas noches Tu-tu-tu-tu-tu-tu TusHello Not swindlers good 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 night sweet dreams good night sweet 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 dreams bonnui mesami bonnui mesami bonnui heavenly bonnui bonnui mesami bonnui 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 vete show your un bisou 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 some kisses un bisou besitos unια Battery ti mando tanto affetto, tanto amore, tanta tranquillità e ti auguro il meglio ti auguro una buonotte davvero, mio pasticcino, mio pasticcino buonotte che li spero grazie